Cari amici, dal mio canale Telegram voglio girare la stessa cosa, lo stesso contenuto su YouTube, anziché rifare un altro video, quindi dal canale Telegram vi faccio ascoltare le mie parole. Cari amici, una piccola ma comunque interessante o almeno spero interessante pillolina. Vi volevo comunicare che da qualche tempo i miei video, non tutti ma una buona parte di essi, sono presenti e quindi li potrete trovare anche sulla piattaforma social SharkTube, dove ho aperto un mio canale. SharkTube è una piattaforma indipendente, senza censura, nata da un'ottima idea di due amici, Filippo e Salvatore. Ripeto, indipendente, libera da censura e scusate se è poco. Quindi promuoviamo SharkTube. Gli YouTuber indipendenti la conoscono proprio perché è uno spazio di libertà e quindi promuoviamola, diffondiamola, parliamone e scaricate l'app, iscrivetevi al mio canale se volete o al canale di altri. Tanti YouTuber indipendenti sono presenti da tempo e ci stanno lavorando e altri arriveranno. Questa iniziativa deve continuare, deve svilupparsi, deve trovare nuovi visitatori perché, ripeto, senza censura è senza censura ed è indipendente. Quindi c'è il massimo della libertà di espressione, cosa davvero molto, molto, molto importante. E più finestre abbiamo, più spazi abbiamo, noi indipendenti meglio è. Quindi SharkTube, 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 ringrazio e saluto ancora Filippo e Salvatore. Nient'altro da aggiungere e quindi alla prossima video.